Ciao, eccoci a questo Teo delle 5 che ci prendiamo insieme, in realtà io non avrò un tè ma una cioccolata calda in tazza che riesco a farvi vedere un po' all'interno senza versarmelo addosso. So che non è più tempo delle cioccolate in tazza, vedete anche dalla luce che trafila dalle finestre, ma niente, avevo voglia di cioccolato, c'avevo ancora una busta da farmi e quindi perché no? L'argomento di oggi nasce da due articoli che ho visto in momenti diversi di recente ma che mi hanno ricondotto allo stesso ragionamento. Il primo è un articolo di Go Play Listen, anzi facciamo che vi metto qua in descrizione sotto al video proprio i link ai due di cui sto parlando. Il primo è di Go Play Listen dove un papà semplicemente racconta come si è divertito tantissimo tutto un pomeriggio con le figlie, prima con quella piccola e poi con quella piccola e quella grande, a giocare a Snakes and Ladders, quindi un gioco in cui dice non riuscivo neanche a perdere apposta perché è tutto retto dalla fortuna, non c'è nessuna abilità, lanci solo i dadi e vedi cosa succede. Quindi un pomeriggio che poteva essere super frustrante invece è stato divertentissimo, addirittura quella grande di 11 anni ha chiesto di giocare con loro. E l'altro invece è il video di Girls Gamer Shelf che recentemente hanno recensito, ha recensito nel suo solo, diciamo nei giochi per una sola persona, di Abundance. In questo gioco termina la recensione dicendo che quando vinci in realtà non sei soddisfatto di te, non è che ti sembra di essertela guadagnata, semplicemente sei contento perché ti è andata bene, certo ci sono delle scelte da fare all'interno di questo gioco, però dice mi piace perché ti è andata bene, insomma ti senti più fortunato che non abile ed è una cosa piacevole quando cerchi un qualcosa di relax. Questo mi ha fatto illuminare e pensare che noi di recente stiamo trascurando tantissimo il metagioco. Cosa si intende per metagioco? Il metagioco è tutto quello che arriva prima, durante e dopo una partita di un gioco da tavolo, che non è legato strettamente alle regole. Tutto quello che fate magari prima, prepararvi, che so se giocate i giochi come Magic, Hearthstone eccetera, prepararsi il mazzo, ma anche magari ricordarsi di aver visto partite, strategie, aver letto qualche articolo, insomma da quelle parti. Nel durante, quello che fate, chiacchierando con gli amici, indesimandovi nel personaggio, e quello che fate dopo, il chiacchierare della partita sul dopo, cosa è successo, come avrei potuto fare, che cosa ho sbagliato, e questo diciamo che è una parte che secondo me è molto importante nel gioco ed è fondamentale tenerne presente quando noi promuoviamo o bocciamo un gioco. Mi sono fatto degli esempi per farvi vedere. Ci sono ad esempio dei titoli, come nome in codice o The Resistance, dove potreste avere un'esperienza di gioco rovinata in maniera involontaria. Se voi giocate a The Resistance, immaginate, siete l'unico che conosce il gioco, con al tavolo altre sette persone che non hanno mai giocato. E' molto probabile, soprattutto se queste persone anche non sono portate ai giochi identità nascoste, che le partite siano orribili, che siano selezionate a caso le persone che devono partire in missione, che non c'è dialogo, che tutti mentono, ma in realtà non ha senso il modo di mentire perché non riuscite a capire informazioni. Stessa cosa il nome in codice. I due che sono i capi squadra, alla prima partita potrebbero darvi solo indizi per una parola alla volta. Indizio, parola, indizio, parola. La partita è noiosissima. Ora, se guardate a voi stessi e chiedete a tutti quelli che hanno giocato, sicuramente è un'esperienza di gioco bruttissima. Dite, quel gioco bocciato, è stato noiosissimo tutta la sera, casuale totalmente, chi inizia ha la vittoria, cose di questo tipo. In maniera involontaria mi viene in mente, no, in maniera volontaria, scusatemi, vengono in mente Catan o Dixit. Dixit ci può essere la coppietta che si dà solo indizi che solo loro possono capire. A me è capitata una serata, possono dare indizi del tipo, che so, giubileo. Boh, voi mettete carte a caso e loro istantaneamente vanno a puntare una carta che dice, ma perché giubileo? Perché durante il giubileo si erano regalati un'immaginetta che aveva proprio quell'immagine lì? O, viceversa, in Catan, la famosa coppietta che uno dice, mi servirebbe tanto del legno, tieni, ti do pure tre carte legno delle mie e tu non mi devi dare nulla, puoi darmi una carta che vuoi, se vuoi, se no fa niente, va bene così. Il gioco ovviamente prevede queste cose, siamo al limite del barare, però fa parte di un metagioco, un metagioco che si sviluppa durante la partita, che anche qua va assolutamente tenuto in considerazione. Quando ci sono altri tipi di metagioco da tenere in considerazione? Quando ci sono giochi come Risico o Sight, dove c'è un attacco diretto, voi potreste essere attaccati senza senso. Potrebbero esserci giocatori che solo per il gusto di attaccare, solo per darvi fastidio perché vedono che vi ruode, continuano ad attaccare, magari anche in maniera fallimentare, sprecando risorse senza nessun senso, voi potreste essere attaccati. E anche lì potreste alzarvi dal tavolo dicendo che il gioco è orribile, che non avete potuto fare niente, che tutta la sera siete stati picchiati. Dopo il gioco, un esempio di metagioco che avviene dopo la partita, è in Tales of Arabian Nights. Durante la partita voi state prendendo delle scelte, operando delle scelte, scusate, che non hanno un vero senso. È molto raro che quello che voi deciderete di fare abbia un vero risvolto, abbiate il controllo di quello che sta succedendo nella partita. La cosa bella però è, a fine partita, ma già iniziando nel durante, riraccontarsi le storie. Noi ancora ci raccontiamo storie giocate nelle varie partite. Ah, ti ricordi quando lui era andato sotto che con una bestemmia perché non è riuscito a distruggere il regno dei mari? Ah, invece l'altro che è stato in carcere, che dal carcere è stato picchiato, provato a evadere, ripicchiato, trasformato in un rospo. Ah, mamma quando ne ha subito, ah ah ah. Si ride anche del dopo la partita. La partita, in pratica, è stata giocata in una certa maniera, ma quello che è bello è quello che rimane dopo, le serate dopo, che anche in cui non si sta giocando Tales of Arabian Nights, ci si racconta ancora quello, ci sono delle frasi, degli aneddoti che sono diventati di linguaggio comune. Insomma, tutto questo per dire che cosa. Non sto facendo un disco... Scusate, bevo un secondo, mi è venuto lo sfizio. T'altro bere una cioccolata così densa è anche poco dissietante. Il mio discorso vuole andare un po' oltre il semplice, tutti i gusti sono gusti. Non sto assolutamente dicendo che se a uno piace quel gioco, vabbè, è buon per lui, a me non piace, è buon per me, io gioco a qualcos'altro. E' un discorso che secondo me è sempre più spesso. Stiamo dando la responsabilità del gioco, di quanto sia bello il gioco, di quanto ci stia divertendo, al regolamento del gioco. Se il gioco non ha delle meccaniche che permettano e ci obblighino a divertirci, il gioco non è bello. Non stiamo mai andando a dare la colpa a noi stessi, non ci stiamo mai valutando sul Ma io avevo l'atteggiamento giusto per giocare a questo gioco, mi sono posto nella maniera corretta. I giocatori, gli altri, hanno giocato con l'atteggiamento giusto nel gioco prima, durante e dopo la partita? Perché altrimenti, se demandiamo tutto al regolamento del gioco, raga, è chiaro che un sacco di giochi quando vengono chiesti sui social network Com'è sto gioco? Ci sono capolavoro, super schifo, bellissimo, il peggior gioco della mia vita. Se potessi dare 20, darei 20. Io darei una sfilza di 0 a questo gioco. Perché ragazzi, il regolamento è solamente l'imbastitura per far funzionare il gioco. Quello che davvero però lo fa girare al tavolo, che ve lo fa rentavolare, sta a noi purtroppo. Prendiamo il talisman. Talisman è il tipico gioco dell'oca, si dice subito Ah, per giocare al gioco dell'oca, gioco al gioco dell'oca che dura meno, giochiamo a carta più alta. Ma se c'è così tanta gente a cui piace talisman, non è perché loro stanno giocando in maniera sbagliata al gioco, con delle regole sbagliate. E non è perché a loro piace un gioco in cui si tira solo il dado e sono decerebrati. Perché probabilmente riescono a immedesimarsi nell'eroe che stanno impersonando. Perché man mano che crescono, si fanno grossi con gli altri. Se uno sbaglia, c'è la derisione al tavolo, c'è voglia di scoprire una nuova cosa. Insomma, non vi sto cercando di convincere che talisman sia un gioco bello. Ma è un gioco in cui l'approccio può fare davvero la differenza. E anche giochi, un esempio che faccio spesso, come Happy Salmon, a livello di meccanica c'è un problema. Il gioco potrebbe non finire mai. Cioè, se tutti giocassero in maniera German a Happy Salmon, il gioco non finisce. Quello che rende il gioco avvincente e rigiocato è perché dura pochissimo, perché c'è frenesia al tavolo, perché si vuole far casino al tavolo. Se giocassimo tutti in silenzio, dicendo Se scelgo di fare Salmone con lui, no, non conviene. Allora giro la carta, preferisco fare il 5 con lui. Il gioco è ovvio che è orribile e ripeto, e non finisce. Cioè, matematicamente potrebbe non finire il gioco. Quindi, concludo dicendomi, diamo più spazio al metagioco. Fidiamoci anche del modo in cui ci si debba approcciare al tavolo e non demandiamo solamente al regolamento il fatto che un gioco sia bello o brutto. Non cerchiamo solo giochi in cui il regolamento sia super bilanciato, super top, super perfetto. Perché sono giochi che probabilmente non danno anima al tavolo. Vi danno soddisfazione mentale. Però ricordatevi cosa diceva Girls Game & Shelf. Sono contenta perché per rilassarmi mi piace anche dire E vai, questa volta mi è andata bene. Direi che finisco la mia sproloquiata, finisco la mia cioccolata. E vi dico un ciao e alla prossima.